L'operazione odierna è frutto di un'attività d'indaggione svolta dalla stazione Carabinieri di Praia Mare che ha acquisito l'elemento dirittuoso in sedi da segnalazione al 112 della vittima e a seguito dell'intervento si è potuto congelare tutte le fonti di prova nell'immediatezza per poi successivamente inoltrare tale informazione alla procura della Repubblica di Paola per i provvedimenti odierni.